Mezzo milione di euro per rendere due storici palazzi di Lucca esempi perfetti di efficienza e risparmio energetico. Gesam Energia ha presentato i lavori di riqualificazione elettrica di Palazzo Orzetti e Palazzo Santini. I lavori nelle due storiche sedi comunali concordati e condivisi con l'amministrazione Tambellini sono stati recentemente appaltati e sono iniziati da qualche settimana. Il presidente Giovanni Magnani e i tecnici di Gesam Energia hanno spiegato gli interventi nel dettaglio che prevedono la messa a norma e l'innovazione degli impianti elettrici che grazie a sofisticati sistemi di telecontrollo e automazione, l'utilizzo dei nuovi corpi illuminanti a LED garantiranno un risparmio energetico annuale del 20%, cioè più di 11.000 euro. L'importanza di questo tipo di intervento credo che abbia una doppia valenza. Uno è quello del risparmio energetico che credo che ormai sia nella sensibilità di tutti e il secondo è anche quello di fare un intervento in un ambiente culturalmente importante sia per i contenuti amministrativi che ha, sia perché l'involucro è un involucro storico e il tutto poter utilizzare delle tecnologie innovative che portano risparmio. Il progetto si colloca all'interno del piano Sinergo che permette di sfruttare gli introiti degli impianti fotovoltaici realizzati da Gesam Energia nel 2011 senza così gravare sulle casse comunali. All'interno del Sinergo noi troviamo le risorse economiche perché questo intervento non gravi sui bilanci dell'amministrazione comunale, ma questi sono interventi voluti dall'amministrazione comunale. Vorrei chiarirlo perché credo che sia una cosa importante a dire.